Una grandissima partita con il Cittadella, ora questa vittoria ci deve dare la consapevolezza dei nostri mezzi e andiamo a Ferrara per continuare così, su questa strada, perché altrimenti non abbiamo fatto niente. Io ogni allenamento do il massimo, poi il mister sarà a decidere se farmi giocare oppure no. Io quello che posso fare è dare il 100%, poi deciderà il mister. Il mister magari ora stiamo facendo un modulo nuovo che magari io non ho mai fatto, quindi cerco sempre di fare quello che mi dice il mister. Poi a volte ci riesco, a volte ci riesco meno, però io penso che non è vero, penso che il mio atteggiamento è sempre ottimo, penso che ogni allenamento gioco sempre il massimo. Poi magari deciderà il mister se farmi giocare oppure no. Io cercherò sempre di dare il massimo fino a quando starò qua, poi sarà lui a decidere. Tutto risolto col mister? Assolutamente sì, nessun problema con il mister. Ritrovi Pasquale Marino, che ricordi hai di lui? Il mister è una grandissima persona e un grandissimo allenatore. Sono stato benissimo con lui a Vicenza, ora me lo ritrovo come avversario e spero di fargli un dispetto. La gente comunque ci sta sempre vicina, anche ultimamente che i risultati non arrivavano ci è stata vicina, non ci ha mai contestato, quindi noi dobbiamo soltanto dimostrare sul campo e regalargli delle soddisfazioni, perché è una piazza che lo merita, non lo dico perché, ma lo sento. È una piazza che merita e quindi dobbiamo dare tutto per questa piazza. Una domanda, se vogliamo, banale, ma quanto ti manca il primo gol in questa stagione? Beh, assolutamente tanto, lo ammetto, lo ammetto, però come ho detto prima è normale, ho avuto delle difficoltà a livello magari tattico, però spero di sbloccarmi il più presto possibile e di iniziare a regalare soddisfazioni a questa gente, a questa piazza, a questa società.